Buonasera e benvenuto alla night session su bitcoin con analisi evoluta, un metodo statistico-matematico di cui puoi avere ogni ragguaglio richiedendo la guida gratuita sul sito analisi-evoluta.com Che cosa succede di bello questa sera che sono le 23.06? Beh, prima cosa, fantastica vittoria di SYN agli US Open, ecco perché ho aspettato fare il video, in realtà l'ho aspettato per un altro motivo, devo dirti la verità. Il motivo qual è? È quello che volevo vedere l'inizio della candela delle 23, perché sono le 23.06 in questo momento, e vedere se finalmente il Technica 2 mi dava una conferma dello short. Perché? Perché se prendiamo da questo minimo, riportiamo fino a qui, andiamo oltre il tempo massimo di un ciclo giornaliero e quindi dovremmo cercare che cosa? Dove ha chiuso il primo giornaliero? Semplice, 35 barre. E se qui hanno voluto fare un raccordo, una finta o una chiusura a 23 barre. 23 barre esatte, tra l'altro. Per adesso, con la scarsità dei volumi che c'è stata subito dopo le ore 19.15, ho poco da raccontare. Per adesso però possiamo dire che, per quanto riguarda il tempo, siamo arrivati a 7 barre sopra un minimo, che quindi abbiamo la possibilità che da qui si sia effettivamente chiuso un settimo T-3, un settimo ciclo giornaliero, vincolatosi tardi a ribasso, e che da qui effettivamente, no non da qui, ma da qui sotto, stia partendo un ottavo ciclo giornaliero. Come ti dicevo, bisogna anche fare un'altra considerazione importante, perché in questo momento tendo a dare per chiuso appunto con 23 barre invece che 24 classiche, succede poche volte, ma succede il nostro settimo T-3. Per il fatto che manca un pezzo, manca ancora anche solo la condizione necessaria e sufficiente per andare a chiudere il secondo ciclo settimanale inverso e anche il B settimanale inverso, perché siamo a due settimane. Come si chiude un settimanale inverso? Con un sottociclo di 3 gradi inferiori, 1, 2, 3, ribassista. Ribassista significa che si torna sopra al massimo da cui si è partiti, perché si parla di inverso, il contrario rispetto all'indice, ai prezzi. E qui non abbiamo avuto nulla e ho questa sensazione, ho questo sentiment, quasi un hash rate, che è, dato che stiamo costruendo candele qui sopra, sopra questa media mobile, stiamo provando a rimanere all'interno della cum e finire qui sopra, potrebbe succedere che cosa? Potrebbe succedere anche che, magari, prima si torni qui sopra, proprio dove ho messo la possibilità per andare a vincolare a rialzo il sesto ciclo giornale di inverso, mai squillata, quindi allarme a 55.027, perché se tornassimo qui sopra a pari, cosa succede? ovviamente avremmo 1 e 2, un t-2 inverso, ribassista, proprio quello che ci serve per chiudere il t più 1. Quindi bisogna vedere se hanno voglia semplicemente di fare così, ok, per avere 1 e 2 di chiusura, baffo di chiusura, e poi, finalmente, chiudere anche lato indice. Chiudere lato indice in che senso? Chiudere lato indice perché, qui avremo la condizione poi per riprendere appunto a scendere, brutta però questa freccia, la voglio ridisognare, 1 e 2, ok. Avremo anche la condizione per andare a scendere perché, dopo la salita, perché questo rimbalzo, è vero che per il tempo ci dice che potrebbe essere partito un nuovo ciclo settimanale, ed è per quello che continua a lasciare in giallo il sesto t-3, però non è che stia facendo questo grandissimo rimbalzo. Se si vuole andare a sperare in una partenza di ciclo settimanale, bisogna andare molto più su, bisogna rompere la media mobile, ok. Ok. Altrimenti, prima parte del settimanale, seconda parte del settimanale è chiusura dopo aver fatto appunto questo rialzo. Dopo aver creato almeno la condizione necessaria e sufficiente per poi iniziare a scendere. E qui non ce l'abbiamo ancora, eh. Ah, tra l'altro, mi state bombardando con messaggi sulla persona che copia, sì, l'avete azzeccata, è proprio quella, assolutamente, e mi state dicendo che dopo che ho parlato del tempo puro, ha iniziato a parlare del tempo puro, e poi ma magari non ne parlava. Dopo che ho iniziato a chiedere chi disegna i movimenti che ci si aspetta su YouTube o sulle sue analisi, come faccio io, adesso ha iniziato a farlo anche lui. Quindi è una roba che, cioè, io non so come, con che faccia si possa, prima aver imparato da me nel gruppo premium, e poi non citarmi, non citare, questa non è più l'analisi ciclica di Hurst, figuriamoci, questi sono cicli mobili, non c'entra, ci stiamo staccando molto da Hurst, quella del migliorino, il migliorino non ha mai esaminato le criptovalute, non c'erano ai tempi in cui ha scritto i vari libri, l'impianto grafico è identico, nei video dice condizione sufficiente e necessaria per proprio non sembrare una copia totale, io non so che cosa dire, sinceramente sono basito, perché dopo che si impara da qualcuno si dovrebbe avere almeno l'etica, qui stiamo parlando proprio di etica, di citare appunto dove ci sia formati, mentre invece da quello che mi state mandando come screen, eccetera, c'è una negazione di quello che è successo che invece io posso dimostrare, perché come di consueto non parlo a Vanver, non parlo per opinioni, ma parlo nei fatti, comunque ne abbiamo già parlato troppo, ritornando noi, questa è l'aspettativa principale, la candelina tra l'altro si sta alzando, cercando di andare a finire proprio sopra il livello dell'accumulo, l'abbiamo perforata, ci siamo appoggiati sulla media mobile, stiamo provando appunto ad andare su e vediamo se appunto ci si crea con una salita la condizione almeno sufficiente, necessaria e sufficiente per chiudere appunto tutto un bisettimanale d'inverso e poi si inizia a invertire seriamente di nuovo tornando a scendere e confermando appunto il vincolo di ribasso. Un'altra cosa che mi raccomando ti ricordo è che ci saranno due appuntamenti pubblici prossimamente sul canale di investimenti BNP Paribas, il primo sarà House of Trading di martedì, quindi dovrò probabilmente posticipare appunto il Money Moves in cui ridarò la centratura giornaliera, quindi prima House of Trading e poi Money Moves, successivamente mi hanno invitato anche per il 18 di settembre perché appunto ricercavano qualcuno per parlare prima della Fed, io ricordo sempre Riccardo De Signori che sì sì mi fa piacere parlare di che cosa può succedere ma che la strada è quella che racconta le volute e l'ho dimostrato tantissime altre volte per cui sarò piacevolmente ospite, sentirò, ascolterò più gli altri piuttosto che raccontare invece appunto tra due giorni martedì alle ore 17.30 ci sarò appunto, sarò nella prossima puntata di House of Trading e vedrò se sarà possibile dare anche la centratura daily o se la darò appunto in Money Moves successivamente verso le 18.30. Segnati gli appuntamenti se non vuoi rimanere indietro, fai come di consueto la tua scelta se non conosci ancora il metodo e vediamo che cosa succede e se anche questa volta dopo anni e anni di disegni continua ad essere ad essere nella maggior parte dei casi corretta appunto l'aspettativa e vediamo se andiamo a creare la condizione per la chiusura dell'inverso per ricominciare poi dopo una salita appunto a scendere, ok? Buona serata e buon divertimento!